E abusivismo sanitario. I carabinieri hanno segnalato sei fisioterapisti, tutti operanti nella provincia di Isernia, per il reato di esercizio abusivo di una professione sanitaria. Ma vediamo i dettagli. Nell'ambito delle attività di indagine sul fenomeno dell'abusivismo delle professioni sanitarie, gli uomini del NAS Carabinieri di Campobasso hanno beccato cinque fisioterapisti operanti nella provincia di Isernia per il reato di professione abusiva. Gli accertamenti sono stati svolti attraverso ispezioni all'interno di varie strutture regionali, eroganti prestazioni sanitarie, nonché attraverso controlli incrociati con gli elenchi della professione sanitaria e i dati ufficiali forniti dai rispettivi ordini di categoria. Al termine degli accertamenti segnalati alle autorità giudiziarie, cinque fisioterapisti per il reato di esercizio abusivo della professione sanitaria sono stati segnalati, poiché seppur in possesso del titolo accademico non risultavano poi iscritti all'ordine professionale. Per uno di essi si è anche proceduto alla sospensione dell'attività del centro per mancanza di titolo autorizzativo. Analogo provvedimento con conseguente deferimento anche a carico di un altro professionista titolare di un centro del Basso Molise non autorizzato. I carabinieri ricordano come sia necessaria per la pratica della professione di iscrizione agli albi professionali. La normativa affida una finalità esterna e una interna. La prima è la tutela del cittadino utente che ha il diritto sancito dalla Costituzione italiana di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, mentre la seconda finalità è rivolta agli operatori stessi che il collegio è tenuto a tutelare nella loro professionalità.